Non andremo lontani con questo corso. Ecco, guarda, base Emerald a 1 e 12. Di solito li prendo in prestito agli elicotteri. Allora l'hai persa davvero la memoria. Allora l'hai persa. Non vi posso far passare, penso per me. Ehi, aspettate, ma cosa... Fermi! Ok, muoviamoci! Muori un altro! Posteremo i cadaveri più tardi. È più facile se sono congelati. Allarme! Libera Carrington, e poi filatela. Io ti aspetto sul rete. Non l'avevo previsto. Te l'avevo detto di non far guidare MacDougall. Ehi, cerca di stare cavolo. jetzt mi quando regale. Oh. 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 Pare che stia succedendo qualcosa Scusa diemo! Scusa diemo! Scusa! Scusa diemo! Scusa diemo! Scusa diemo! Per quanto tempo rimarremo in questa topaia? E' tutto per quella matusa di Carrington! Scusa diemo! Scusa diemo! Che state facendo? Siete pazzi? Scusa diemo! Nooo!